La nuova edizione La nuova edizione La nuova edizione Sono Emma e faccio un regno di una musicista Non c'è la cantante perché arrivo alla gente non che non è nulla perché non ho mai messo dei nodi dei fruttori tra me e il pubblico Siamo aspirazione bisogno determinazione siamo conoscenza competenza siamo esperienza sogniamo con ambizione per continuare a non essere le prime per continuare a non essere le ultime nella musica come nella vita vivo fino in fondo e anche se tocco il fondo mi rialzo sempre ringrazio tutte le persone che ogni giorno sono qui al mio fianco e non mi morano e mentre l'ignoranza padroneggia e l'intelligenza tace continuo a pensare che contano i fatti e infatti sono su questo palco per rispondere con la mia voce sincera esco dal buio e sono pronta per risplendere la mia voce